Giornata no per le abruzzesi in Serie 1, due sconfitte, una delle quali difficilmente preventivabile ed un pari. E questo è il bottino poco soddisfacente della stessa giornata. All'ottato ma è uscita sconfitta contro la vicecapolista Lazio, 4-3 la matricola Acqua e Sapone Città Sant'Angelo, alla terza persa di fila. Sul risultato hanno inciso alcune distrazioni difensive di troppo dei nerazzurri, oltre all'invidiabile tasso tecnico degli avversari, come evidenziato dalla prima marcatura di Politi e dalla quarta di Fornari. Gli altri due gol sono di Alcaraz e ancora i Politi su rigore. Per l'Acqua e Sapone gara subito in salita, dopo il pari di Vendrame va sotto 3-1 e poi 4-2. I tentativi di rimonta si schiantano contro i due pali colpiti nel finale e a nulla serve il 3-4 di Mazzoni ad una manciata di secondi dalla fine. Neanche l'arbitraggio ha soddisfatto l'Acqua e Sapone in alcuni episodi e alla fine il tecnico di casa Lammers analizza così la sconfitta. Però non facciamo gol, creiamo, giochiamo, oggi un'altra volta abbiamo giochiato noi, però la differenza è questa. fanno l'esperienza, fanno gli episodi, noi pecciamo per gli errori che facciamo e pecciamo pure perché non riusciamo a mettere la palla dentro. Però è un periodo in cui dobbiamo continuare a lavorare, però è quello, molte volte si deve vedere che ci serve qualcosa in più e vediamo che sarà in futuro. Male la Ponzio Pescara sconfitta a quarto Sant'Elena da un ATS che fino a sabato era ancora a quota zero punti, tanto da presentare in panchina il nuovo allenatore Ramiro Dias, ex marca. Da non credere anche all'andamento del match, con i pescaresi in vantaggio con il solito positivo repetto al quindicesimo del primo tempo e sull'1-0 fino al diciottesimo della ripresa. Poi l'inaspettato tracollo, un vero e proprio blackout e tre gol subiti in poco più di 20 secondi e poco prima della fine il poker per il 4-1 definitivo. Pari e patta per la DAF Scemesul, piccolo campo della Luparense, Baptistella e Cuzzolino illudono in Montesilvano, Vasconcelos fissa però il 2-2 ed in un colpo solo gli uomini di Colini scivolano terzi dietro Marca e Lazio. In Serie 2 buon pareggio per l'Adriatica Pescara, in casa contro il forte gruppo Fassina, prestazione di carattere dei ragazzi di Marzuoli che acciuffano il 3-3 a 30 secondi dalla fine col primo gol stagionale di Bruno Cavalli. Buona la capacità di reagire alle avversità dell'Adriatica anche se gli infortuni non danno tregua, vedasi la ricaduta di Capitan Palusci subito dopo il gol del momentaneo 2-1 ma il bicchiere è mezzo pieno. Abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, eravamo in 4 alla fine in 5 a giocare quindi sono veramente felice, di buon auspicio, ci fa ben sperare per il futuro. Dobbiamo mettere insieme la politica di valorizzazione dei nostri ragazzi con una salvezza da raggiungere il più presto possibile, so che è difficile anche perché viviamo un momento particolare anche nei rapporti con alcune sponsorizzazioni però tutto poi alla fine si risolve. Cuschietti sconfitto a San Benedetto 4-1 nello sconto diretto, in Serie B festa doppia per la Tubi SP a Loreto, vince 12-7 a Foggia e resta solo al comando per la sconfitta di Scafate a Venafro. Perdono tutte le altre abruzzesi.